Sì, sì sì, grazie Mario, siamo qui dal Palamonticelli, è terminata la partita tra Fuzzala SKL e Bruttaccia, terminata 3-2. Siamo qui con il mister Massimo Marcheciani, Massimo, è andata male, ma comunque si è visto stasera un buon grottaccia, nonostante tutto. Sì, è andata male per la partita, noi sognavamo di fare i playoff, l'abbiamo fatti, purtroppo stasera è andata così, ce l'abbiamo messa tutta, onore al Fuzzala SKL e niente. L'anno prossimo comunque un altro campionato di Serie C1 da onorare alla grande, qual è adesso l'obiettivo, sempre la salvezza? Adesso ci vediamo queste meritate vacanze, non ci facciamo obiettivi sicuramente anche perché si dovrà parlare con la società, giocatori, chi rimane, chi non rimane. Però l'unica cosa che voglio fare è i complimenti ai miei ragazzi perché veramente sono stati strebidosi, ce l'hanno messa tutta. Grazie mister, ora aspettiamo anche il capitano del SKL che sta parlando. Scusa, Paolini, una vittoria che vi proietta in finale playoff, una gara sofferta comunque avete meritato di vincere? Sì, una gara sofferta come la gara di campionato, fisica, purtroppo eravamo molto corti come Rosa stasera, quindi diciamo che è stato l'ennesimo miracolo della stagione. Eravamo partiti per la salvezza, abbiamo raggiunto il terzo posto, adesso cerchiamo di sognare un po' e recuperare tutti quanti e giocarcela ad Ancona alla pari. Comunque, come hai visto questo Grottaccia che avete affrontato e che è uscito solamente di un gol? Il Grottaccia penso che sia una realtà che sono anni che dimostra il proprio valore, quindi sono sempre partite sofferte. È una squadra molto tosta, molto fisica che negli anni comunque di C1 ha sempre viaggiato in posizioni alte e merita ancora di stare in queste posizioni. E adesso è il 21 aprile, quindi questa finale, sognare è lecito? Sì, sognare è lecito anche perché noi non abbiamo assolutamente nulla da perdere, mente libera e dove arriviamo è tutto guadagnato. Di certo vendiamo cara la pelle perché salire non ci dispiace comunque. Grazie al Capitano e tanti auguri per la finale playoff del 21 aprile. Quindi qui dal Palamonticelli è tutto, ripetiamo il parziale, Fuzzale SKL 3, Grottaccia 2. Il Fuzzale SKL è in finale playoff di Serie C1. È tutto, quindi vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e linea alla regia. Grazie. Grazie.